L'emozione, la fibrillazione prima del Gran Premio, Scarperia e il Gran Premio del Mugello sono il Gran Premio d'Italia e nel Gran Premio d'Italia si vede tutta la passione verso le moto e verso questi piloti che da Ballertino Rossi hanno segnato l'epoca di un Gran Premio che con lui si è identificato. Oggi occorre trovare nuovi idoli, nuove persone di riferimento, questo è un Gran Premio che va avanti da quando l'autodromo fu realizzato, era il 1974, lo realizzò l'Automobile Club Firenze perché qui prima c'era nelle strade ordinarie il Gran Premio del Mugello e si passò alla fase nuova dell'automobilismo e del motociclismo e oggi è veramente uno dei più prestigiosi autodromi che vi siano al mondo. Comunque godiamoci la promozione che da un punto di vista turistico, culturale il Gran Premio e l'autodromo possono fare del territorio del Mugello. Io sono felice perché vedo qui una grande organizzazione impostata sulle Ferrari che può dare grande futuro a quello che poi diventa elemento di attrazione per tante persone che possono così conoscere il Mugello, Firenze, e la Toscana.